good morning juventus un grande giornalista italiano nonché grande conduttore televisivo sto riferendo al compianto maurizio costanzo che a me piaceva tantissimo forse non altro perché ha ideato il talk show più bello secondo me visto in tv cioè il maurizio costanzo show che ha mangiato un sacco di personaggi anche inutili va detto ma anche altri invece importanti diceva spesso e volentieri quando sentiva cose che non stavano né in cielo né in terra è l'altra parte la mamma dei cretini è sempre incinta diceva questa frase che io faccio mia e sposo in pieno allora oggi mi rivolgo ai cittadini di alassio dice max è impazzito cosa cacchio c'entrano i cittadini d'alassio con la juventus un attimo che ci arrivo io chiedo ai cittadini d'alassio se qualcuno di voi sta vedendo questo video se siete cittadini onesti se siete cittadini responsabili se siete soddisfatti del vostro sindaco siete soddisfatti del vostro sindaco allora dovete sapere che perché se è bravo come sindaco e quindi come politico chapeau complimenti peccato che come persona nella sua diciamo vita privata è un coglione l'ennesimo coglione che si va ad aggiungere a variale a pistocchi a zuliani a ziliani non zuliani chiedo scusa claudio che non c'entra niente lui juventino ennesimo no perché perché cosa è successo è successo che questo simpatica canaglia come mi piace definirlo marco melgrati cognome che tutta una tutta una garanzia definisce la juventus il cancro del calcio italiano chiamandola rubentus poi gli viene fatto notare da un'associazione juventina che lo diciamo lo attacca pubblicamente che sono cose che non stanno né in cielo né in terra definendo appunto queste sue affermazioni surreali e lui per tutta difesa dice io cosa ci posso fare se mi sfottono mi dicono che sono un prescritto un cartonato tutto quanto allora l'ho detto sembra quasi una specie di maledizione perché ne ho parlato ieri mattina nel good morning dedicato a gravina io questa mattina volevo parlare di qualcos'altro ma non c'è problema ne parlerò domani magari domani o il prossimo good morning però è mai possibile che questa gente qua che ha delle cariche pubbliche istituzionali e mo ce li siamo dopo una carica istituzionale in figici oggi parliamo di una carica istituzionale nella politica e nei comuni di alasio essendo il sindaco devono rompere i coglioni lo dico in in maniera molto chiara rompere i coglioni con le loro dichiarazioni del cazzo allora c'è già la russa che rompe le palle ed è un senatore per non dire altro abbiamo giornalisti che rompono i coglioni però il giornalista si può anche in qualche maniera accettare perché in fin dei conti non ha nessuna carica istituzionale c'è un giornalista che fa schifo io non lo seguo ma un sindaco che è sindaco deve decidere di una città provate a immaginare un sindaco che ha a che fare con un juventino magari quanto possa essere equilibrato e onesto nelle sue decisioni nelle sue votazioni finisano già poca fiducia però ripeto questo malvezzo che si sta diciamo diciamo ingigantendo e proliferando in italia di attaccare la juventus ogni piesso spinto attaccandola dicendo che siamo ladri che siamo il cancro del calcio tutte queste cose qua stride un po stride un po con la storia recente del calcio italiano perché nei nove scudetti vinti ove si vada a mettere la lente di grandimento sul rigore di monta sul gol di montari dove io sono il primo dire che era un gol sacro santo e buffon l'aveva preso 30 centimetri dentro la porta e lì ci potrebbe essere in qualche maniera un rammarico da parte dei milanisti che guarda caso sono quelli che rompono meno le balle perché perché sono dei signori perché va detto i milanisti sono dei signori sono veramente la prima squadra di milano il milan non l'inter sono dei signori loro se perdono non si attaccano agli arbitri non si attaccano alla juventus caruba guardano in casa propria non a caso io ho sempre avuto stima per i tifosi del milan un po meno per quelli dell'inter no però i tifosi di queste squadre che hanno attaccano alla juventus al cancro dovrebbero pensare che la juventus ha vinto nove scudetti straneritati dando dei come l'inter quest'anno come il napoli l'anno scorso 15 7 12 punti di distacco alla seconda addirittura 20 30 la terza la quarta quindi c'è voglio dire ci sta che ti fanno due orrori a favore e ti fanno guadagnare sei punti ma non 15 o 20 l'inter quest'anno è stata aiutata dagli arbitri ma io da juventino sono il primo a dire che lo scudetto dell'inter che vincerà è straneritato non c'è stata storia quest'anno nel momento in cui la juventus ha cominciato a crollare l'inter ha continuato la sua corsa in arrestabile il discorso risolto per cui questo signor melgrati questo signor melgrati dovrebbe rendersi conto che quando apre bocca su un social che lui definisce privato vita privata non è così non è così non è così perché faccio un esempio personale io sono uno youtuber che ha un seguito no poco tanto che sia non mi importa ok di 57 mila iscritti ho una media di 10 15 20 arrivo anche a 30 mila visual con le pagelle ho il mio pubblico che mi segue se io sul mio profilo io non ho soltanto facebook e basta ma pubblico solo cose mio cane il mio gatto le cose diciamo così sciocchine carine no un pubblico ma se dovessi andare a pubblicare sul mio profilo facebook personale quello tale youtuber pinko pallino è una testa di cazzo avrebbero ragione coloro che leggono questo post di andarlo a riferire a quello youtuber e gli riguarda che max montagna ha detto che sia una testa di cazzo avrebbero ragione e se questo si incazza con me ha ragione perché dovrei vedere in faccia e dovrei prendere il telefono se c'è il telefono oppure scrivergli se c'è un contatto un contatto e scrivergli per me tu sei una testa di cazzo e lui eventualmente mi può rispondere per le rime chiaro per cui quando tu sei un personaggio pubblico secondo me devi stare attento a quello che scrivi ea quello che dici secondo me secondo me ora c'è il malvezzo no in italia di parlare male di tutto di tutti tutto di tutti si parla male di tutti di tutti io questa cosa non la concepisco io questa cosa non l'amo io preferisco andare sui fatti ieri ho parlato di gravina non l'ho accusato ho semplicemente detto che siccome è indagato dovrebbe sospendersi non ho detto dimettersi detto sospendersi ma proprio non se ne parla neanche perché questi signori secondo me hanno la faccia come il diaretano quest'altro qui questo marco melgrati che fino io fino a poche ore fa non sapevo neanche chi fosse non sapevo neanche che esistesse mi ha spinto a fare un video per prenderlo come esempio non è che ce l'ho con lui in modo particolare perché voglio dire c'è ormai sono abituato a sentire cavolate sulla juetus però è ora di finirla questa storia è ora di finirla anche perché nove anni scudetti con quattro anni che facciamo schifo sono quattro anni che facciamo schifo dov'è che rubiamo dov'è che abbiamo rubato che facciamo schifo fuori dall'europa in italia facciamo ridere i polli non abbiamo vinto niente e rubiamo cosa abbiamo rubato una gallina una bicicletta cosa abbiamo rubato come juventini spiegatemelo cioè lo juventino come si deve sentire di fronte a queste accuse il cancro del calcio italiano siamo sicuri che non sia invece il bene del calcio italiano che senza la juventus il calcio italiano sarebbe ancora più depresso sarebbe ancora meno importante siamo sicuri di questo ricordo a quelli che definiscono il cancro del calcio italiano che la juventus ha fatto nove finali di champions league quattro finali di coppa uefa ne ha vinte tre ne ha persa una col parma va bene ha fatto due finali di coppa intercontinentale e le ha vinte ha fatto ha vinto 14 coppa italia disputando circa 20 insomma la juventus è una squadra che bene o male è sempre nei top delle competizioni a cui partecipa poi si può vincere si può perdere si può arrivare primi e secondi intanto in finale bisogna arrivarci intanto in finale bisogna arrivarci io preferisco arrivarci che essere eliminato agli ottavi o ai gironi come l'anno scorso per cui bocce ferme io non capisco se lo fanno per avere notorietà per avere un attimo di luce così fioca che l'illumina perché francamente di fronte a queste cose io rimango interdetto un individuo che è il sindaco di un paese tra l'altro alassio io la conosco ci sono stato è una cittadina chiamiamola così bellissima a me è piaciuta tantissimo e è una zona che mi piace quella perché è molto bella e pulita c'è un'aria fresca non è bell'aria è una bella zona mi piace e quindi mi dispiace che il primo cittadino di questa questa cittadina ridente della liguria sia un perla praticamente un perla come avrebbe detto il buon murino good morning juventus Ciao 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 Grazie a tutti